Ok, buonasera a tutti. Siamo arrivati alla 49esimo incontro di Io sta a casa e parla di Pallavolo e questa sera abbiamo un graditissimo ospite, uno psicologo dello sport che lavora prevalentemente con la Federazione Italiana Gioco Calcio, ma che comunque lavora anche con gli altri sport. Ve lo presento subito, si chiama Andrea Corso. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Con me ci sarà comunque l'amico Franco e Maurizio Moretti che mi aiutano un po' nella conduzione. Il tema di questa sera è il tema sulla comunicazione, principalmente la comunicazione tra allenatore e giocatore, allenatore e squadra. Andrea ha deciso di scegliere i cinque momenti più importanti della comunicazione, ma prima di passare all'argomento volevo che un po' ti presentavi, ci raccontavi un po' cosa fai di bello nella tua vita. Grazie ancora per stare qui, questo fantastico progetto perché è veramente bello, come dicevi è quasi la cinquantesima puntata e non è da tutti avere una continuità. Allora, parto subito dicendo che io sono un ex calciatore, sia a livello professionista soprattutto con le giovanili, per poi avere una carriera soprattutto nel dilettantismo e ho avuto la fortuna di stare con squadre ambiziose e infatti ho vinto un po' di campionati in quattordici anni, almeno cinque campionati. Da lì, durante il percorso da giocatore, ho iniziato, ho intrapreso la formazione all'università come psicologo, mi sono laureato, una volta laureato ho fatto il master in psicologia dello sport. Da lì, un po' per la nascita di mio figlio, un pochino perché volevo mettere in atto la teoria, mettere in pratica appunto la teoria da psicologo dello sport, ho iniziato anche a fare il mister, quindi ho lasciato un po' la carriera da giocatore per fare il mister. Ho fatto cinque anni il mister e adesso faccio solo ed esclusivamente lo psicologo. Inoltre ho preso anche del, sono anche esperto in coaching, in parent coaching e quindi da un anno e mezzo faccio parte, come diceva Rocco, della federazione gioco calcio nel comitato soprattutto SGS e sono il responsabile della parte psicologica del centro federale territoriale di Formello, quindi a Roma. e è nulla, quindi questo. Benissimo. Niente, allora siamo curiosi, è un tema che ci interessa molto, speriamo anche poi con le domande avremo modo insomma di allargare il discorso, ma ecco, inizialmente partiremo con la tua presentazione su quello che abbiamo chiamato i cinque momenti della comunicazione. Benissimo, intanto condivido lo schermo, eh? Sì. Eccolo. Perfetto. Mi confermate che si vede? Sì. Perfetto. Allora, titolo un bel po' impegnativo direi, perché cinque momenti della comunicazione nello sport, è nata tutta questa idea, questo titolo è nato dal fatto che si sente molto parlare di comunicazione efficace, ci sono un milione di webinar, articoli, corsi, quindi sicuramente ne sapete tantissimo di comunicazione efficace. Quindi si parla molto del come e del cosa fare e dire, ma vedo e ho sentito poche volte parlare del quando utilizzare la comunicazione. Dato che ci sono vari momenti nella vita dello sportivo, nella settimana, poi dipende sempre dallo sport, ho pensato di racchiudere un po' la comunicazione efficace all'interno di cinque momenti. Poi li andremo a vedere. Allora, la seconda slide fa riferimento proprio agli obiettivi della serata, che sono una piccolissima parte, metterò in evidenza gli strumenti utili per avere una buona comunicazione efficace, poi ci sarà la parte un po' la macro parte che sono i cinque momenti della comunicazione per poi concludere con il confronto finale, con domande, dubbi, critiche, quello che volete. Perfetto, quindi partirei subito con gli strumenti. Una piccola premessa per dire che questo è pensato anche per dare una struttura e un'organizzazione all'allenatore, al mister, al formatore, al tecnico, come lo vogliamo chiamare, mentale soprattutto e spero che dia anche delle parole chiavi, dei punti, dei concetti che possono essere utili durante tutto l'anno sportivo, in poche parole, durante la settimana e che sia, durante proprio tutti i momenti dello sport. Quindi ci tenevo proprio a dire questa, non va generalizzata e va contestualizzata giustamente sulla base dell'allenatore, del gruppo squadra, dello sport e così via. Prima degli strumenti c'è una piccola provocazione, si parla sempre di comunicazione, che è appunto come ben sapete, il trasferimento di un'informazione da una persona a un'altra persona, questa viene elabora il messaggio, viene codificato per poi rimandarlo attraverso un feedback, quindi parliamo sempre di una comunicazione circolare, ma è una comunicazione unidirezionale. Ma la comunicazione è prettamente influenzata da tantissimi altri fattori, come il fattore culturale, il fattore proprio emotivo, il fattore comportamentale, il fattore ambientale. Esempio è il fattore ambientale, ci possiamo esempio nel calcio, giornata di pioggia è diversa da una giornata di sole, inevitabilmente condizionerà e influenzerà la nostra comunicazione. Spogliatoio piccolo, spogliatoio grande, spogliatoio sporco, spogliatoio pulito. Cento persone durante la partita, mille persone durante la partita. Inevitabilmente tutto ciò influenzerà il nostro modo di comunicare con la squadra e con l'atleta. Per questo ho fatto proprio, ho cercato di mettere in evidenza comunicazione versus interazione. A me piace molto più fare riferimento al concetto di interazione rispetto alla parola stessa comunicazione. Per la serata, comunque, questo è un concetto che tengo a precisare e che tutti i misteri devono tenere in considerazione. Comunque oggi parleremo, utilizzerò il concetto di comunicazione a parola comunicazione per essere un pochino più, avere un linguaggio condiviso e che tutti ci possano seguire, diciamo. Perfetto, dopo questo andiamo sugli strumenti. Tutti voi sapete gli assiomi della comunicazione, ma voglio metterne in evidenza, sugli assiomi della comunicazione non si può non comunicare, quindi l'aspetto non verbale è fondamentale. Dall'altro si è evidenziato che circa il 90% dei fraintendimenti, dei conflitti, avviene soprattutto sul come vengono dette le cose rispetto a cosa viene detto. Quindi è anche un aspetto fondamentale da tenere in considerazione, perché molte volte possiamo utilizzare le più belle parole, ma abbiamo un comportamento non verbale, non idoneo, non coerente con quello che stiamo dicendo, un paraverbale, un tono, un volume, appunto non coerente, il messaggio che passa e soprattutto il come viene detto. Che qualcosa è fondamentale, ma il come si è visto, proprio le ricerche hanno evidenziato e circa il 90% dei fraintendimenti avviene sul come. L'altro aspetto è quello sulla comunicazione simmetrica, comunicazione complementare. Simmetrica, come ben sapete, è stare sullo stesso piano, no? E quindi, ad esempio, quando io sto parlando, io mister, io allenatore, sto parlando con un atleta senza che ci sia una differenza di chi comanda, ad esempio per capire cosa è successo, in una situazione molto empatica. Quindi siamo in una comunicazione, viene chiamata appunto simmetrica. Complementare, invece, è quando c'è proprio una disparità. Quindi si chiama one up, one down. E one up, quando io mister, sto parlando alla squadra, dato che sono leader autorevole, si spera, quando parlo alla squadra su cosa fare, come intervenire, qual è l'allenamento di oggi e così via. One down, quando ad esempio io posso stare in una posizione one down, quando sto parlando, sto parlando con il direttore, il dirigente, il presidente. Poi dipende sempre dalla situazione e dal comune. Comunque, la maggior parte dei rapporti comunicativi che ci sono all'interno dello sport sono rapporti complementari, soprattutto quando parliamo della sfera dell'allenatore. Rapporti complementari nella gestione, però, di rapporti simmetrici. Questa è una frase che tengo a sottolineare perché è stupenda. Rapporti complementari nella gestione di rapporti simmetrici. E proprio la bravura nostra è quella di shiftare da essere sullo stesso piano a poter essere one up o one down in base alla circostanza. Perché alcune volte essere in one down fa la differenza, altre volte meno. Comunque, qui è una riflessione che lascio a voi allenatori. L'altro, come ben sapete, che sono le parole chiave, gli strumenti chiave di ogni allenatore sono l'osservazione e l'ascolto attivo. Senza una buona osservazione e un ascolto attivo, diventa molto molto difficile entrare in rapporto con i ragazzi, con la squadra, con i dirigenti e con tutto ciò che è all'interno dello sport. E poi ho voluto inserire anche l'approccio direttivo-approccio non direttivo che negli ultimi mesi se ne parla tantissimo anche per quanto riguarda come dire, l'apprendimento. L'approccio direttivo, come ben sapete, so che ne avete parlato di questo tantissime volte quindi approccio direttivo e indicazioni continue al giocatore che porta quasi inevitabilmente a essere al giocatore ad essere dipendente del mister e dell'allenatore perché gli diamo tutte le indicazioni possibili su cosa fare e come farlo. L'approccio non direttivo invece cerca di enfatizzare molto di più l'autonomia, di creare anche degli ambienti in cui ci sono dei problemi e quindi i ragazzi devono arrivare alla soluzione di questi problemi come lo facciamo? Attraverso domande, attraverso feedback rinforzi positivi attraverso feedback assento e tutto quello che volete. Questo aspetto diventa fondamentale e fa sì che l'allenatore sia competente quando riesce ad utilizzare entrambi i tipi di approcci. Non significa utilizzare solo uno o l'altro ma quando riesce ad utilizzare i due tipi di approccio sulla base del contesto, sulla base della situazione, della gestualità tecnica che in quel momento vogliamo dare un'indicazione o meno sul gioco che stiamo facendo, sullo stile di allenamento analitico situazionale cioè sono tanti aspetti che permettono di utilizzare un approccio direttivo rispetto a un approccio non direttivo. Quindi proprio la competenza del mister è saperli utilizzare entrambi. Quindi per concludere un attimino sugli strumenti gli strumenti sono utili, tutti gli strumenti sono utili ma la bravura sta nell'utilizzare uno rispetto a un altro. La classica, io faccio sempre la metafora della sacchetta la sacca con le mazze da golf, no? E il giocatore di golf che gioca a golf utilizza una mazza rispetto a un altro sulla base di tante situazioni. E noi dobbiamo essere così, dobbiamo utilizzare lo strumento la mazza giusta al momento giusto per far sì che l'obiettivo si raggiunga l'obiettivo che tutto il contesto sia funzionato. Continuo e siamo arrivati al ai cinque momenti della comunicazione e come vedete sugli opposti diciamo su una linea, no? Linea del tempo che sono comunicazioni in allenamento comunicazione pre-gara comunicazione durante la gara comunicazione post-gara e il debriefing poi lo vedremo meglio perché un pochino confondere in questo momento però poi lo vedremo. Partiamo proprio dalla comunicazione in allenamento poi per ogni momento ho cercato di inserire tre parole chiavi che possono essere, o tre concetti che possono essere utili da ricordare e da tenere in considerazione. Secondo me la comunicazione in allenamento le tre parole chiave, tre concetti sono conoscere l'ambiente sereno e stile di conduzione. conoscere perché all'inizio all'inizio anno la cosa fondamentale l'obiettivo fondamentale è quello di conoscere capire, indagare gli obiettivi e le aspettative personali di ogni giocatore cosa posso aspettarmi e comprendere dai miei giocatori se è un ragazzo o una ragazza disponibile se ha un atteggiamento mentale rivolto alla crescita rispetto a solo alla performance che tipo di approccio devo utilizzare con uno rispetto a un altro che tipo di è introverso è estroverso cioè sono tanti aspetti che ci permettono di inoltre conoscere anche alcune cose della propria vita personale esempio classicissimo parlando dei giocatori adulti se arrivo nella mia nuova squadra e vedo un ragazzo quasi sempre stanco nei primi allenamenti la prima cosa che faccio è giudicare perché è stanco non ha voglia non ha un atteggiamento giusto e così via ma noi non lo sappiamo questo per questo è importante indagare casomai è egli è nato il figlio da tre o quattro mesi non riesce a dormire la notte non ha un aiuto a casa cioè sono tanti aspetti che dobbiamo conoscere altrimenti andiamo in quello che come poi come dicevo giudicare la tendenza a giudicare è veloce e istantanea e qui entriamo nell'ambiente sereno l'ambiente sereno è proprio quell'ambiente che permette di che ci si che non ci sia giudizio che ci sia il diritto dell'errore qui possiamo aprire un altro mondo e un'altra serata per parlare di questo cioè l'errore dobbiamo proprio considerare dare il significato dell'errore diverso cioè se consideriamo l'errore come la penna rossa diventa difficile poi che ci sia l'apprendimento che ci sia un miglioramento cioè sono aspetti fondamentali non sto qui a dilungarmi se no ripeto parleremo un'altra altre tre ore di questo e poi l'ambiente sereno permette cioè l'allenatore e lo staff devono permettere di creare emozioni piacevoli emozioni funzionali emozioni che permettono la crescita il miglioramento l'apprendimento emozioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi perché se noi vogliamo atleti elite gli atleti elite sono coloro che hanno autonomia sono autonomi per cercare la migliore performance non siamo noi a dargli la migliore performance sì con l'allenamento con la parte fisica tecnica ma loro devono essere autonomi nel cercare la migliore performance e questa è una differenza importantissima tra atleti dilettanti e atleti professionisti e inoltre con l'ambiente sereno è lo stile di conduzione come abbiamo detto quindi l'approccio direttivo non direttivo in un momento in un altro permettiamo anche il processo di sviluppo creativo che soprattutto per i bambini divene un aspetto fondamentale poi in allenamento per i bambini se tocchiamo anche il tasso bambini l'aspetto importantissimo è quello come si sa sembra una parola scontata divertirsi e sviluppare la passione che non è semplice ve lo posso garantire arriviamo a un aspetto che se ne parla tantissimo se ne parla tantissimo ma a volte non sappiamo perché comunicazione pregara e chiamata anche pep talk cioè discorso di incoraggiamento qui vi riporto soprattutto una ricerca fatta negli Stati Uniti perché su una domanda ma davvero il discorso di incoraggiamento permette di influenzare motivare la squadra da questa domanda hanno fatto una serie di appunto una ricerca su vari discorsi di incoraggiamento su atleti professionisti di NBA baseball e football americano infatti ho messo proprio la foto del football americano cioè i tre sport principali degli Stati Uniti e da questa ricerca è emerso che il 90% afferma di apprezzare i discorsi prima della partita e il 65% afferma di essere influenzato a livello prestativo dal discorso di incoraggiamento e da qui dai vari discorsi sono emersi questi tre punti questi tre concetti direzione esprimere empatia e creare senso dove per direzione sta proprio al come dire verbalizzare dire i compiti gli obiettivi cosa e come affrontare la partita quindi quello che facciamo spesso solitamente è quello di dare appunto tutte le indicazioni a tutti i giocatori su cosa dobbiamo cosa dobbiamo fare esprimere empatia esprimere empatia è proprio quello di cercare di mettersi nei propri nei panni della squadra cercare di capire le motività della squadra attraverso anche la comunicazione un esempio è so che questa sfida è molto impegnativa e confido che noi quindi noi permette di avvicinarsi alla squadra comprendo capisco cioè tutte parole che permettono di avvicinarsi alla squadra e poi se volete se volete possiamo anche approfondire anche la comunicazione non violenta o empatica di Marshall Rosenberg però anche qui ha un discorso molto lungo e poi il creare senso il creare senso è dare il motivo cioè dare proprio esprimere il motivo perché devono affrontare quella partita e perché devono dare il massimo perché devono essere determinati quindi chiudere è un attimino creare quella cornice su tutto ciò che abbiamo detto questi tre concetti non vanno presi uno a uno ma vanno mixati si è visto che mixare questi tre aspetti permette di influenzare e ispirare la squadra non si parla qui voglio toccare anche un altro tasso quello di che si è fatto un'altra ricerca sul discorso di incoraggiamento che secondo me è molto importante e che va detta perché si pensa che il discorso di incoraggiamento motivi la squadra e invece nient'altro non c'è una motiva non motiva nulla perché la motivazione è dell'atleta la motivazione è di ogni atleta ma quello che fa il discorso di incoraggiamento è ispira che c'è una linea sottile tra motivazione e ispirazione ispira soprattutto a creare emozioni funzionali alla partita quindi il discorso di incoraggiamento un aspetto importantissimo è quello di cercare di ispirare le emozioni che possono essere anche rabbia determinazione anche tristezza stessa che ci permette di unirci quindi è un aspetto importantissimo questo e poi se visto che ad esempio enfatizzare di più quando abbiamo fatto 4-5 vittorie consecutive esprimere empatia e direzione è quasi poco funzionale quindi un aspetto importantissimo è dare maggiore enfasi al significato al motivo per il quale dobbiamo affrontare quella partita se perdiamo invece siamo in una serie di sconfitte l'aspetto importante è esprimere empatia far sentire che noi allenatori siamo con loro che noi allenatori siamo vicini alla squadra e la direzione è soprattutto viene usata per dare degli input veloci soprattutto anche nelle prime partite di campionato dove ancora si deve creare quella squadra quell'armonia quella fiducia quella condivisione di obiettivi ma il giusto mix di questo può aiutare a creare quell'ispirazione a creare quelle emozioni funzionali per la partita poi andiamo sulla comunicazione durante la gara cosa fare come fare solitamente la prima cosa che facciamo è diamo continuo soprattutto nel calcio nella pallavolo si seguo ma non sono espertissimo ma vedo che la prima cosa che si fa e l'unica cosa che si fa è dare solo indicazioni tutta la partita diamo indicazioni ma qual è la funzionalità di dare continuamente indicazioni e per questo ho messo in evidenza questi tre aspetti energizzare il singolo e la squadra cioè quando vediamo la squadra o il singolo che un attimino ha fatto due errori e non riesce a riprendersi non riesce a ritrovare quella quella spinta motivazionale per affrontare nuovamente la partita lo energizziamo come come ci aiuta questo come possiamo energizzarlo attraverso la conoscenza se noi conosciamo quel ragazzo basta anche una parola per poterlo riprendere per poterlo recuperare per dargli quegli input in più poi c'è identificare il fattore carente cioè noi diamo indicazioni per esempio nel calcio passa la palla lanciala dall'altra parte crossa tira fai ok perfetto ma è funzionale gli stiamo dando una mano ai nostri ragazzi identificare il fattore carente lì diamo l'indicazione per far sì che sia funzionale da bravi osservatori da bravi conoscitori della squadra andiamo ad individuare il fattore carente della squadra in quel momento e lì andiamo a dare l'indicazione a fare una domanda a dare un rinforzo positivo su alcuni aspetti quello che per voi poi è più funzionale appunto in quel momento in quella situazione e poi accompagnare la squadra proprio accompagnarla emotivamente la squadra e vorrei ritornare un attimino all'allenamento cioè se non creiamo le basi in allenamento tutto ciò che stiamo dicendo adesso lascia il tempo che trovo quindi l'aspetto importantissimo è proprio l'allenamento è lì che creiamo la partita è lì che creiamo le basi conoscitive di osservazione creiamo le basi per dare autonomia creiamo gli obiettivi creiamo coesione è importantissimo e ritornando a comunicazione durante la gara l'aspetto chiave è quello che ci sia coerenza comunicativa tra l'allenamento e la gara stessa cioè se noi in allenamento ci comportiamo e comunichiamo in un modo e in gara travolti dall'emotività ogni partita e ci comportiamo e comunichiamo in un altro modo non diamo l'esempio non siamo quei leader autorevoli quei leader che danno l'esempio quei leader che permettono di far sì che la squadra ci segua permettono di creare coesione poi arriviamo alla comunicazione post gara parlare o non parlare e anche qui è una bella domanda dipende molto da cosa sto provando in quel momento in questo momento finita la partita ho perso ho vinto cosa sto provando è utile dire qualcosa alla squadra cosa dire quindi qua ci aiuta nuovamente l'osservazione la consapevolezza nostra quindi essere consapevoli di ciò che sto provando e di quello che sento che sento di cosa e come intervenire io vi consiglio non so se qualcuno di voi ha già visto All or Nothing che è una serie televisiva su Amazon Prime che fa riferimento a Bari Sport se non sbaglio c'è il football americano e il calcio o un altro non ricordo e vabbè in due di queste serie c'è fanno riferimento un anno intero o loro Noffing parlano di un anno intero di una squadra nel calcio c'è il Manchester City di Guardiola e il Tottenham di Mourinho che è arrivato l'anno scorso e vi consiglio il Tottenham di Mourinho perché lui entra a campionato iniziato a quasi metà stagione e si vedono e si possono ascoltare osservare tantissime cose di quello che stiamo dicendo adesso la prima cosa che ha fatto Mourinho è quello di osservare poi è andato a parlare con ognuno dei leader passatemi un po' quello che credeva che erano i leader in quel momento che potevano dare qualcosa di più alla squadra personalmente quindi è andato a capire indagare quali erano gli obiettivi le aspettative ha interagito tantissimo con lo staff hanno perso una partita fondamentale con il Chelsea invece di incavolarsi è andato lì a rincuorare e a enfatizzare gli aspetti i punti positivi della squadra è andato a dare la mano ad ognuno di loro enfatizzando i punti i punti di forza della squadra quindi dalla delusione dalla forte delusione dalla tristezza ha cercato di riportarli su di riportarli sui punti di forza invece di mantenerli sui punti deboli e non è un aspetto da tutti perché solitamente quando in una partita importante la squadra non va come pensa l'allenatore la prima cosa che si fa è ammazzarli insultarli dire gli errori che abbiamo fatto quindi è qua e anche qui ogni cosa ripeto ogni cosa va contestualizzata sulla base del proprio modo di essere il proprio modo di essere allenatore e della squadra che ho di fronte altrimenti sembra un po' che una generalizzazione e poi arriviamo al debriefing il debriefing è quell'intervallo di tempo che c'è tra il saluto alla squadra cioè me ne sto andando a casa e il l'inizio del primo allenamento quindi è compreso quei due giorni di riposo un giorno e mezzo che sia e il discorso per chi lo fa per chi non lo fa del del primo allenamento e qui possiamo utilizzare non so i video se qualcuno ha a disposizione i video della partita si inviano i video della partita ai giocatori e ognuno può andare a ricercare i punti su cui migliorarsi i punti in cui poteva dare di più non so gli obiettivi non raggiunti tutti i piccoli aspetti se non c'è la possibilità dei video si appunto si ritorna in il giorno dell'allenamento e si può fare principalmente un discorso sulla base di degli obiettivi condivisi della squadra gli obiettivi personali su quello che si andrà a fare durante la settimana enfatizzare soprattutto sempre i punti di forza e parlare dei punti di debolezza come punti su cui migliorarsi durante la settimana e qui dare comunque sempre l'enfasi all'autonomia dei ragazzi all'autonomia di volersi migliorare perché quando parliamo di squadra non parliamo di di gruppo in senso lato ma squadra quando parliamo di squadra parliamo di egoismo di squadra egoismo di gruppo e quando dico egoismo di gruppo significa che ogni ragazzo ogni giocatore è responsabile di quello che andrà a fare e ognuno ha l'obiettivo personale per poi la coesione stessa ha un obiettivo condiviso di squadra però se non c'è l'egoismo di gruppo anche qui è difficile perché se io non ho non sono responsabile del mio reparto della mia situazione dei miei obiettivi non riesco neanche ad aiutare gli altri e quindi è un aspetto anche qui importantissimo poi possiamo fare 3000 esempi anche sul tra i bambini piccoli tra quelli più grandi under 15 under 16 under 17 gli adulti però stavamo qui a 3-2 ore vi dico la sincera verità quindi ho cercato di sintetizzare semplificare e fare emergere soprattutto le parole chiavi dei concetti di questi cinque momenti poi come ho detto mi sono dato un tempo tra mezz'ora e 40 minuti quindi ho cercato di stare nei tempi infatti quasi ci sono e voglio concludere con questa bellissima frase di Benjamin Franklin dimmi e mi dimentico coinvolgimi e io imparo credo che all'interno di questa frase c'è un pochino tutto quello che è emerso in questo intervento grazie quindi come avete notato ci sono i punti di domanda e il confronto benissimo Andrea ci hai fatto un quadro ci hai fatto un'esposizione veramente molto molto bella interessante ora in questa seconda parte insomma cercheremo di approfondire di fare domande di coinvolgere anche un po' gli ospiti è una cosa che ho notato che in tanti allenatori come me come tanti altri abbiamo preso tanti appunti perché insomma ci sono venute in mente diverse cose credo che sia arrivato anche Maurizio ci sei Maurizio? sì 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 eccomi qua ok ciao a tutti ciao Maurizio sì sì ciao ho ascoltato gran parte di cui ho riattivato l'audio l'esposizione allora partiamo un po' con un po' di domani io ne ho qualcosa scusa Rocco scusa se ti interrompo volete che tolgo la condivisione? sì ma va bene anche come sì va bene perfetto così possiamo guardarci diciamo adesso interagiamo un po' Franco c'hai già una domanda per Andrea? sì una domanda sulla comunicazione tutta questa teoria mi domando ma la dobbiamo trasmettere anche ai giocatori? cioè queste nozioni è importante che le condividiamo non dico tutte con la squadra oppure rimangono soltanto dei strumenti che noi utilizziamo per essere più efficaci nella comunicazione bella domanda allora molto molto dipende che concetti quali sono gli obiettivi che vogliamo portare avanti no? e poi dipende molto anche dalla categoria cioè se siamo con adulti è un discorso se siamo con ragazzini piccoli è un altro quindi Franco che su quale contesto quale categoria vogliamo approfondire ok no in un contesto dove noi vogliamo creare una cultura ad un certo livello dove vogliamo sfruttare tutti gli strumenti possibili no? quindi la conoscenza delle emozioni di quello che costruiamo con quello che diciamo dell'importanza di come lo diciamo eccetera cioè per esempio i momenti è importante farli condividere non parliamo di bambini però già dalla squadra di eccellenza giovanile o da una serie BIC ok cioè è importante che io faccia comprendere come mi muovo oppure lo faccio punto allora sulla parte comunicativa io credo che non sia poco funzionale far come dire dire cosa sto facendo e perché lo sto facendo ah ok credo cioè io credo la secondo me l'aspetto fondamentale da parte dell'allenatore e quindi che è il leader no? e perché un allenatore automaticamente deve essere un leader autorevole tutto quello che vogliamo dire tutti i paroloni del leader perché sa tantissime cose sul leader sulla leadership però un aspetto importantissimo franco è trasmettere i propri valori condividere le regole e condividere gli obiettivi ok perché comunque la competenza viene da te viene da te allenatore e ritornando alla relazione complementare no? la relazione complementare c'è nella competenza non c'è nelle regole che le regole sono condivise i valori sono condivisi gli obiettivi sono condivisi però nella competenza no sei te l'allenatore sei te che devi dare quel qualcosa in più ok alla squadra perché noi insegniamo ok vai 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 noi insegniamo insegniamo abilità insegniamo tecnica insegniamo tattica tutto quello che volete ma anche nei bambini dobbiamo trasmettere questo cioè trasmettere la passione dello sport non è soltanto eh soltanto che dire eh ok ci divertiamo vediamo che si divertono e basta no dobbiamo lavorare dobbiamo formarci per creare delle strutture di allenamento idonee che portano il ragazzo a divertirsi e nello stesso tempo crescere perché i bambini quando si divertono lo fanno seriamente cioè non è che il divertirsi significa solo ridere e scherzare cioè se voi vedete anche un bambino di tre anni io ho un bambino di tre anni quando gioca su qualcosa che l'appassiona si diverte ma si sta divertendo seriamente e la maggior parte di volte chi interrompe questo divertimento siamo noi adulti e quindi qua poi tocchiamo un altro tasso vabbè però quello che ci tengo molto a dire è trasmettere valori e condividere obiettivi e regole che credo sia il punto cruciale e il punto fondamentale ok grazie allora Andrea volevo dire due cose uno su questo del divertimento che stavi dicendo qualche giorno fa con Maurizio e Davide Mazzanti parlavamo proprio del divertimento perché abbiamo notato che Perugia che era una squadra che in questo momento sta allenando Davide era una squadra che stava faticando perché era ultima in classifica quindi veramente stava faticando con l'acqua alla gola rischio di retrocessione insomma così e noi abbiamo notato io gliel'ho scritto pure e vedevamo che questa squadra soprattutto nelle ultime partite cioè si divertivano in mezzo al campo tu vedevi le ragazze anche con il sorriso tra di loro e quindi dicevamo ma questo concetto di divertimento lui ci ha spiegato ci ha detto che ha fatto un po' riferimento all'etimologia della parola divertimento che significa un po' diverso da quello che noi pensiamo cioè del fatto sai di scherzare ma del fatto di elevarsi di evolversi rispetto a qualcosa quindi ci hanno lavorato su questa cosa qui ed è una cosa che si vedeva insomma volevo volevo condividere questa cosa poi volevo farti una domanda sempre sulla comunicazione che è un tema anche molto attuale quello delle delle interferenze nella comunicazione interferenze che possono essere che ne so a livello di squadre giovanili magari i genitori ma a livello anche di squadre adulte poi insomma chiederemo anche anche a Silvano delle mogli dei tweet dei giornali di tante cose che magari possono allontanare creare problematiche varie tra allenatore giocatore tra allenatore squadra ecco la gestione delle interferenze bellissima domanda bellissima domanda e qui vorrei a questo punto metto in campo un po' una ricerca che ho letto un po' di mesi fa di una psicologa Miranda Cheie si chiama se non erro che ha proprio posto questa domanda cioè nel senso si parla tanto di comunicazione nello sport tra il mister il discorso pre partita del mister i discorsi che fanno i dirigenti i direttori tra ragazzi però si parla poco si è studiato pochissimo ciò che comunicano i genitori ai propri figli oppure in questo caso parliamo dei genitori ai propri figli prima di arrivare al campo e ho fatto una ricerca su tantissimi bambini mettendo in evidenza anche facendo dei test questionari anche ai genitori e per farla breve i due concetti base sono un po' quelli di Carol Dweck quindi un po' quell'atteggiamento di il mindset rigido il mindset di crescita il groove e quindi si è visto proprio una mentalità si è fatto riferimento a una mentalità di performance a una mentalità di crescita se i genitori utilizzavano delle parole e davano delle indicazioni su migliorare cioè che dovevano andare in partita e sconviggere l'avversario ammazzare l'avversario dovete vincere per forza quindi concentrarsi sulla prestazione sulla performance aumentava i picchi di ansia in una maniera impressionante nei confronti dei bambini e ragazzi perché parliamo anche di fino a 18 anni se invece i genitori ponevano e facevano un discorso utilizzavano delle parole rivolte più a una situazione di miglioramento personale un miglioramento di crescita personale e di obiettivi personali i picchi di ansia erano quasi inesistenti cioè a me mi ha colpito tantissimo questa questa ricerca e ad esempio faccio due esempi molto veloci se il genitore dice devi battere quei ragazzi è diverso da potresti avere l'opportunità di battere il tuo record sostanzialmente uno può pensare ok stiamo dando comunque un'ansia in tutti e due gli aspetti però la ricerca ha evidenziato che mettendo il focus sulla crescita personale il confronto personale rispetto al confronto con l'altro porta più benefici e automaticamente aumenta anche la prestazione poi quindi qui ritorniamo anche al concetto di apprendimento apprendimento è più importante la prestazione o è più importante l'apprendimento e qui tocchiamo un altro possiamo fare anche un'altra riflessione lunghissima su questo aspetto è una riflessione che poi alla fine posso porvi anche a voi allenatori per voi è più importante la prestazione o l'apprendimento quindi anche in questo caso anche l'allenatore è è artefice di questa situazione se costantemente poniamo i nostri ragazzi al confronto con l'altro guarda Marco quanto è più bravo costantemente perché alcune volte è utile anche ma costantemente lo stiamo mettendo cioè gli stiamo dando picchi di ansia elevati rispetto a aiutarlo a confrontarsi con i suoi punti di forza e i suoi punti e i suoi miglioramenti i suoi obiettivi personali poi per riprendere un attimino quello che mi hai chiesto le soprattutto con i grandi quando ci sono i giornali adesso i social network hanno un'interferenza fortissima cioè facciamo l'esempio di un giocatore molto forte no? e riprendo anche il la serie tv del Tottenham è capitato anche questo dove c'era delle Alli centrocampista avanzato del Tottenham che stava costantemente sui giornali per le ottime prestazioni però allo stesso tempo stava sui giornali anche quando una partita non riusciva e a lui questo lo condizionava tantissimo perché si basava molto più sulla prestazione rispetto alla crescita e qui poi con lo staff Morugno ha fatto un lavoro eccezionale tale che da una partita all'altra comunque c'è stato un cambiamento importante quindi anche qui l'allenatore deve conoscere il ragazzo deve osservare ciò che sta facendo deve aiutarlo appunto nel processo di crescita personale rispetto alla prestazione e creare quell'ambiente che permette anche di sentirsi che sentire l'appartenenza perché non ci dimentichiamo quanti giocatori fortissimi in una squadra vanno in un'altra squadra scusate la parola e sono dei pipponi perché cioè non è che da un anno ad un altro cambiano perché eventualmente non ha trovato l'ambiente che gli permette di sono tanti aspetti spero di aver risposto un po' Rocco ok sì grazie grazie Maurizio hai una domanda io ho due o tre domande sulla chat però volevo sentire prima Maurizio Silvano se avete domande per Andrea su quello che abbiamo detto ma sì io faccio una domanda no perché gliel'avevo già fatta Andrea diciamo quando abbiamo preparato questo incontro e la ripropongo stasera e lui ha diciamo indicato cinque momenti che sicuramente sono momenti importanti della comunicazione che sono la comunicazione durante l'allenamento la comunicazione pre-gara la comunicazione post-gara no durante la gara post-gara e il debriefing però quello che dico io no è che spesso ci sono altri momenti di comunicazione nelle nelle squadre che sono esterni a questi momenti qua no soprattutto per esempio per faccio un esempio pratico no cioè a me ogni tanto come allenatore del giovanile mi tocca non so guidare il pulmino durante la trasferta perché non siamo una società abbiamo perso Maurizio a farla per cui ci sono dei momenti di comunicazione esterni da questi momenti che però certe volte hanno un'importanza notevole perché comunque no sono momenti in cui tu interagisci con la squadra o con i singoli o con le singole giocatrici per cui la domanda è quanto diciamo viene preso in considerazione questo e quanto lo ritieni importante ok ottima domanda lo ritengo molto importante e credo che la il concetto base su tutto ciò sta nell'avere come in ogni cosa anche in allenamento durante la partita nello spogliatoio che sia la giusta distanza cioè giusta distanza significa ok avere un rapporto una relazione anche al di fuori che può esserci lo scherzo può esserci la battuta può esserci eh non so anche una confidenza ma a tempo stesso tu sei il leader tu sei l'allenatore e se ci confondiamo con la squadra se ci confondiamo con ehm il giocatore anche a livello anche personale rischiamo di di perdere quella leadership rischiamo di perdere anche quelle quell'aspetto che per noi allenatori è fondamentale e quindi giusta distanza secondo me la la parola eh da tenere sempre a mente cioè faccio l'esempio classico di noi psicologi no si dice tanto che eh se ehm un familiare una persona di nostra conoscenza eh che lo conosciamo da tanto eh non può venire a studio non può fare terapia analisi con noi perché perché c'è un coinvolgimento emotivo così forte che poi anche se gli diciamo qualcosa che può essere funzionale utile eh come viene presa cioè se creiamo faccio un altro esempio banalissimo se creiamo una bellissima relazione con il nostro giocatore o giocatrice e sappiamo tanto siamo andati anche a mangiare eh una pizza fuori ma durante la partita durante l'allenamento eh utilizziamo un tono più alto urliamo eh lo rimproveriamo su qualcosa e noi abbiamo creato una relazione che lui si può permettere anche di mandarti a quel paese e poi che fai in quel momento? si è creata un'amicizia eh sono dinamiche talmente particolari talmente ehm così sottili che da un momento all'altro può cadere tutto può essere una bellissima cosa ma può essere anche dell'eterio al al raggiungimento degli obiettivi di squadra personali quindi ritorno a dire parola giusti parola perfetta secondo me è giusta distanza bene eh Silvano ho visto prendere tanti appunti eh insomma adesso vai vai tu facci qualche domanda qualche considerazione certo 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 mi senti? sì 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 parto dal dall'inizio cioè il primo il primo concetto espresso è direttivo o non direttivo sì eh noi dobbiamo essere molto direttivi poco direttivi ehm questo questi sono due due situazioni chiare però eh ovviamente ci sono dei tempi eh intanto ci sono squadre diverse cioè mettere insieme allenatori di giovani o allenatori di squadre evolute che tra le altre cose hanno un rapporto con i propri giocatori molto limitato nel tempo perché io che faccio l'allenatore di squadre diciamo così di alto livello eh ogni anno cambio il 70 60 70% dei giocatori che stanno con me 7-8 mesi e basta eh come entro in relazione con loro non è semplice eh devo essere molto direttivo all'inizio meno dopo come io penso oppure devo essere più o meno direttivo allo stesso modo tutto tutto il mio eh rapporto con loro e siccome io eh penso che l'obiettivo di un allenatore in generale non è quello di allenare un giocatore cioè di essere responsabile della sua crescita come giocatore e poi come squadra ma io devo essere così bravo da essere capace a far capire al giocatore che è lui che è responsabile della sua crescita cioè io devo saper instillare il concetto del auto allenamento cioè io sono un consulente per loro non sono quello che gli dice ABC cosa devono fare e e li punisce se non fanno bene cioè io mostro loro qual è la strada che devono percorrere dopodiché sono loro che percorrono la strada io devo sapere casomai dare dei consigli se la stanno percorrendo bene o meno bene però sono loro e io ho sempre in testa una metafora che sai io alleno la nazionale bulgare i bulgari hanno una un concetto in genere quelli dell'est un concetto di comunicazione basata sulle metafore no che è straordinaria perché le metafore colpiscono molto no e io sono rimasto sempre colpito dal fatto che io sono quello che prepara la bicicletta per i miei atleti se io sono bravo la bicicletta sarà molto qualitativa avrà strutture in fibra di carbonio forse avrà cambi di qualità molto elevata avrà ruote lenticolari avrà una serie di situazioni che permetteranno al ciclista all'atleta di andare più veloce però è lui che pedala io non posso pedalare al suo posto e quindi fare in modo che i giocatori capiscano che sono loro che pedalano se vogliono arrivare al traguardo quindi devono devono darsi da fare io io devo devo nell'allenamento arrivare ad avere degli spazi per l'autoallenamento questo è quello che mi preoccupa sempre no? degli spazi però all'inizio devo essere più direttivo successivamente dopo tre quattro mesi e gli spazi per l'autoallenamento cominciano a essere più occupati da parte dei miei giocatori perché hanno capito quello che io lascio loro come spazio e quindi qualcuno più intelligente se lo prende qualcuno no perché è abituato che gli si dice io non ricevo bene è colpa dell'allenatore perché non mi fa fare gli esercizi giusti per ricevere bene io invece devo far capire ai giocatori che io faccio una serie di cose dopodiché se qualcuno ha più bisogno di qualche esercizio in più per la ricezione per il muro per l'alzata eccetera se lo deve fare da solo oppure mi chiede di farlo io glielo organizzo però è lui se lo fa di più cioè è lui che mi chiede io voglio ricevere voglio posso fare la macchina spara palloni posso venire domattina in palestra allora io gli organizzo però voglio la sua richiesta altrimenti io lascio che faccio quello che quello che io stabilisco mi fermo la domanda è stata molto articolata molto complessa però probabilmente Andrea si divincola bene credo che ormai la gente sia abituata quindi credo che aggiungere altro lei ha dato una spiegazione bellissima di come utilizzare un approccio direttivo rispetto a un approccio non direttivo cioè lei allena atleti d'elite atleti professionisti atleti che in un modo o nell'altro si sono formati e hanno la capacità e hanno quella capacità di scelta del gioco perché parliamo di un gioco complesso dove c'è un avversario e uno per skills quindi uno sport per skills come il calcio è vero che ci sono due squadre separate da una rete però c'è sempre un avversario la palla arriva in un modo ma un'altra situazione arriva in un altro quindi comunque la scelta la capacità di scegliere diventa fondamentale per un giocatore d'elite quindi parliamo di giocatori d'elite e lei ha utilizzato sulla base di quello che ha osservato sulla base della sua esperienza sulla base del di quello che ha vissuto e sente in quel momento l'approccio più ideale più funzionale quindi secondo me aggiungere altro sarebbe inopportuno ehm è poco funzionale secondo me all'intervento rispetto a se avesse fatto una situazione del genere eh con ragazzi under 14 avrei qualcosa da ridire perché dobbiamo se l'obiettivo nostro è quello di dare autonomia ai nostri atleti eh di dargli la possibilità di poter scegliere trovare le soluzioni utilizzare solo un approccio un approccio di prettamente direttivo sarebbe inopportuno e poco efficace nel caso nel contesto suo comunque anche gli obiettivi sono un attimino diversi rispetto ai ragazzini dove comunque allena la nazionale eh l'obiettivo prioritario credo che sia comunque vincere con tutto di allenarsi bene e migliorare la prestazione e quindi inevitabilmente anche nel calcio andabotte vediamo Conte vediamo Simone Enzaghi che parlano da il primo minuto fino a arrivare al centodecimo minuto eh danno solo indicazioni e qualcuno mi può dire ok l'approccio è prettamente direttivo però la parliamo di un altro discorso un'altra situazione eh ed è proprio bravura dell'allenatore se è arrivato fino a lì e riesce a comprendere le emotività dei ragazzi riesce ad osservare ciò che in quel momento per loro è più funzionale perfetto cioè non per quello dico aggiungere altro sarebbe opportuno e le faccio i miei complimenti se sta lì e riesce a shiftare un approccio più direttivo ad un approccio meno direttivo in un momento rispetto ad un altro quindi cioè è proprio questa la bravura utilizzare tutti e due tipi di approcci per far sì che si arriva ad un obiettivo benissimo ci sono due tre domande sulla chat che ti giro Andrea uno è Donino Federici ci vuole chiedere a proposito della comunicazione che la società indirizza verso giocatori allenatori e ambiente a volte non c'è coerenza tra la filosofia dell'allenatore e la comunicazione della società ecco in questo caso come come ci si può comportare capita spessissimo pure nel calcio è un aspetto molto molto frequente quindi chi è che cambia la domanda chiave io atto cambia la società o cambia l'allenatore cambia il cambiamento come lo intende significa che bisogna un attimino trovare quelle condizioni per la quale avvicinarsi anche alla società non in termini di obiettivi perché noi sappiamo quali sono gli obiettivi ma in termini comunicativi che forse è una una sfida ardua quando parliamo anche di cioè ci sono dei conflitti in questo caso parliamo di conflitti che può essere lo stesso conflitto tra marito e moglie tra fidanzato o fidanzato ci sono dei conflitti in un modo o nell'altro uno non vuole cambiare un altro vuole cambiare oppure tutti e due non vogliono cambiare io la penso in un modo lui la penso in un altro quindi per cercare di vivere in serenità passatemi un po' il termine uno dei due deve cambiare cioè proprio questo è un aspetto importante o altrimenti lascia non ci sono altre situazioni se io lavoro per un obiettivo e la società ne vuole un altro cioè io mi sto snaturando io credo che la cosa principale è essere se stessi e portare a termine quello che io voglio quindi snaturarsi al fine di oppure rimanere in una società e tornare a casa sempre scusate la parola anche per le per le donne presenti incazzato nero che mi dà problemi anche in famiglia è funzionale è utile stare ancora nella società quindi poi non so cioè poi ci sono tantissime altre esigenze tantissimi altri fattori che vanno valutati nel contesto vanno valutati su ok il dirigente mi dice una cosa e io ne dico un altro ok che cosa gli dici nel momento in cui quindi comunque anche qui eh l'aiuto ad esempio di un supporto psicologico di uno uno psicologo dello sport in questo caso può aiutare un attimino a mediare questa situazione eh io io la dico sempre infatti gli allenatori devono sapere le basi di tutto cioè non posso pretendere che un allenatore e non posso pensare che un allenatore sappia solo di tecnica e tattica dello sport specifico cioè la base di eh di psicologia avere una base sulla nutrizione avere una base sulla parte di preparazione atletica è fondamentale anche per dialogare con tutto lo staff cioè non posso delegare ogni cosa cioè io devo trovare anche un linguaggio se il preparatore atletico mi viene a dire ok eh questo si è fatto male in questa situazione dobbiamo lavorare così io devo sapere di cosa si sta parlando spero che sì cioè no no ho risposto eh per dare la soluzione alla parola magica sicuramente ma non ce l'ho la parola magica cioè vi dico la sincera verità sarei un ipocrita a dire no fai così e ti risolvi la situazione quindi sì c'è una domanda alla chat non so se la legge anche tu te la dico c'è differenza tra informare e comunicare comunicare significa coinvolgere e che le cose più importanti nel comunicare sono chi ascolta ed il messaggio che si vuole trasmettere ok allora anche qui eh c'è una bella differenza cioè la comunicazione è uno strumento che noi abbiamo per informare e non metterli sui due piani che poi con la con la comunicazione e l'interazione ritorno a dire il primo concetto noi riusciamo a informare riusciamo a formare riusciamo a stare nel gruppo quindi la comunicazione deve essere vista come uno strumento che ci permette di quindi non so se se sto stato chiaro in questo cioè nel senso non li riesco a vedere sullo stesso piano cioè la comunicazione è proprio ritorno a dire la comunicazione è lo strumento che ci permette di informare quindi comunque su due cose diverse cioè senza comunicazione io non informo che informo come faccio a informare o formare dicevi anche che l'importanza del feedback di ritorno cioè spesso magari noi allenatori diamo tante informazioni però dobbiamo essere bravi a capire cosa è arrivato perché la cosa più importante è quello che arriva non quello che parte cioè noi magari pensiamo di aver detto delle cose in realtà magari il giocatore o la squadra ne ha capito un altro quindi l'importanza di chiedere sempre il feedback dicevi tu ma ce l'hanno sottolineato anche molti altri allenatori il feedback è l'aspetto fondamentale per farsi appunto e come dicevo prima ci sia questa comunicazione circolare il feedback è fondamentale per rinforzare un comportamento all'interno dell'allenamento rinforzare un comportamento nella durante la partita utilizzare un tipo di feedback rispetto a un altro raggiungere l'obiettivo di far sì che ci sia un feedback tra pari che è molto più funzionale rispetto a molto più di impatto rispetto al feedback dell'allenatore stesso cioè il feedback tra pari è un mio uno è un Giovanni che gioca con me mi sta dando un rinforzo positivo su qualcosa è molto più di impatto rispetto alla stessa identica parole che me le sta dando al stesso identico rinforzo che mi sta dando il miss come vale per il positivo vale anche per il negativo quindi l'importanza del feedback è quello che chiamano peer to peer quello tra pari ne abbiamo parlato anche alcune volte volevo chiedere a Silvano se ecco rispetto a questi cinque momenti alle parole chiave che ha utilizzato Andrea tu nella nella tua squadra nella tua nazionale ti ci ritrovi in tutto in parte su alcune cose di più guarda rispetto ai momenti che lui ha citato ci siamo totalmente cioè sono i momenti fondamentali nella gestione di una squadra e quindi mi ci ritrovo benissimo dopodiché va bene io posso avere una visione che è diciamo più esplicativa riguardo alle mie abitudini ad esempio ad esempio faccio un piccolo esempio hai parlato Andrea hai parlato dell'errore su questo noi noi della pallavolo abbiamo passato decine di anni a discutere del discorso dell'errore perché quelli che hanno molti anni come me si ricordano la nazionale americana degli anni primi anni 80 quella di Doug Bill che è per noi ancora ancora oggi uno dei degli esempi da seguire ecco c'era nel gruppo giocatori questo concetto io odio l'errore e tutto era riportato a questo concetto odio l'errore quindi tutta la metodologia di lavoro di approccio mentale al lavoro era odio l'errore quindi devo fare di tutto per evitare l'errore io ho successivamente anch'io ovviamente perché sono figlio di quegli anni ho appreso molte situazioni di quel tipo ma ho modificato strutturalmente questo concetto dopo perché mi sono mi sono detto che l'errore è l'unica maniera per superare i propri limiti limiti ovviamente c'è errore errore non è che gli errori sono da mettere tutti sullo stesso piano cioè nel momento in cui io sbaglio banalmente delle cose elementari ebbè devo essere ripreso dall'allenatore nel modo che l'allenatore ritiene corretto ma se l'errore è figlio di un momento in cui il giocatore tenta di superare il proprio limite è chiaro che si predispone all'errore ma qui noi allenatori dobbiamo assolutamente spingerli a superare i propri limiti sono che ci alleniamo a fare in allenamento l'allenamento è anche il concetto di superare i propri limiti cioè se io ho facciamo un esempio se io ho delle difficoltà nella gestione di un colpo d'attacco per esempio la parallela all'aposto 4 non mi viene bene non mi sento sicuro e quindi per evitare l'errore non la uso mai in allenamento tiro sempre centro diagonale centro diagonale come miglioro perché se io provo a attaccare in parallela e la palla mi va fuori e poi l'allenatore mi salta addosso dicendo qui errori bastano eccetera 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 io incuto nel nel giocatore il la paura e l'ansia di sbagliare quindi lui non userà mai quei colpi e quelle situazioni faccio un esempio io a me è successo tanti anni fa di avere un giocatore che batteva in servizio io avevo dato il tema in quell'allenamento del servizio corto e lui il suo servizio corto era sui cinque metri quattro metri e mezzo cinque metri nel campo avversario ora quando a un certo punto sono intervenuto su di lui dicendogli senti ma il concetto di servizio corto è diverso servizio corto deve essere la palla deve cadere più o meno sulla linea dei tre metri e lui mi ha detto eh già bravo tu io sono cresciuto in una società con degli allenatori che se la palla non arrivava alla rete quando io battevo dovevo portare le paste ora io portare le paste non volevo quindi non mi non mi mettevo mai non mi metto mai nella situazione di rischio portare le paste eh e quindi batto corto ma corto per modo di dire cioè in totale sicurezza non rischio anche la brutta figura eh perché perché non voglio portare le paste oppure non devo un altro giocatore mi aveva detto sai noi ogni volta che la palla non arriva alla rete dovevamo pagare dieci lire no quando c'era ancora la lira e allora queste penali incutevano nei ragazzi il timore nel nel prendersi dei rischi e questo è dal punto di vista dell'insegnamento del tutto errato quindi assolutamente non non noi allenatori il concetto di errore dobbiamo farlo capire nel senso che i giocatori devono sempre seguire la strada giusta ma se seguono la strada giusta e sbagliano io li lodo io in allenamento intervengo sempre a lodare il ragazzo che pur avendo sbagliato ma ha fatto la cosa giusta o ha fatto la cosa che io gli avevo suggerito e che lui stesso aveva capito essere un suo punto debole quindi la stava stava provandoci allora ha bisogno del rinforzo questo questa questo giocatore non del rimprovero perché ha sbagliato perché in questo caso l'errore non è un qualche cosa che io devo odiare io odio l'errore ma è un qualche cosa che io devo perseguire provare non cercare di sbagliare ma cercare di fare la cosa giusta e se sbaglio non importa riproveremo milioni di volte perché l'allenamento è questo e ora mi fermo perché avevo toccato quest'altro c'erano tanti altri punti che sono molto interessanti quello quello del del debriefing è è bellissimo perché in fondo noi noi della pallavolo non abbiamo non facciamo solo il la riunione al centro del campo come fanno a volte allenatori di calcio e che in cinque minuti hanno detto tutto perché per noi è è video è video quasi quotidiano è debriefing quasi quotidiano è è debriefing dopo facendo molta attenzione a mettere insieme una cosa fatta male con una cosa fatta bene da parte del giocatore perché è fondamentale questo io ho ho in mente il libro il libro One Minute Manager di Branshaw no che quando dice io quando comincio con un impiegato nuovo se questo fa una cosa buona e ne fa nove sbagliate io non gli parlo delle nove sbagliate gli parlo di quella quella giusta e finché lui non avrà raggiunto un livello di fiducia in se stesso tale che può sopportare che cominciamo a parlare dei suoi errori io dovrò solo sottolinearmi la cosa giusta e questo questo è tutti noi questo è secondo me è un concetto fondamentale per noi allenatori bellissimo credo mister hai hai dato proprio il significato dell'errore che parlavo prima io l'ho buttata lì come riflessione proprio il cambiamento di significato dell'errore hai dato proprio un discorso anche storico del significato dell'errore fantastico sai poi Andrea gli sport chiaramente sono un po' un po' differenti noi della palla a volo non dobbiamo dimenticare che l'errore nel nostro set più o meno stiamo tra i sì sette errori otto errori a volte dieci e magari vinci uguale il set quindi per noi fare un errore per esempio in battuta è una roba normale magari in altri sport nel calcio avviene di meno così è cratante cioè che segna un punto e quindi credo che da questa riflessione qui sull'errore perché è importante quello che ha detto Silvano che siamo passati in un momento dove condannavamo l'errore odiavamo l'errore quindi tutta la ricerca di meno errori adesso forse un momento dove vabbè però sai l'errore è uno strumento di apprendimento quindi va bene tutto è molto bella la riflessione dell'equilibrio anche del contestualizzare le cose come stavi dicendo tu volevo anche sentire se Maurizio c'è ancora ci sei Maurizio? no invece c'è Franco che c'è una domanda pronta mi sembra io avevo una domanda sulla comunicazione con lo staff cioè se ci puoi parlare della differenza tra comunicazione con i giocatori e con lo staff e con tutta la truppa perché vedo io ho molti giovani allenatori che hanno lavorato con me qualcuno è contento qualcuno si lamenta non mi dice niente non mi coinvolge mi coinvolge tanto e voglio sentire il tuo punto di vista su questa cosa bella anche questa allora io quando mi fanno queste domande soprattutto se mettiamo due esperienze diverse che può essere il responsabile tecnico che gestisce un numero di allenatori all'interno della passatemi la scuola calcio da parte mia e poi può essere la differenza tra un mister che ha con sé uno staff che sia il secondo allenatore basta sia il preparatore sia il fisioterapista tutto quello che possiamo pensare come dicevo la cosa importantissima è che comunque il mister abbia un attimino abbia le basi su tutti gli ambiti di interesse dello sport e poi quello che forse può essere importante io le considero le tre C che si chiama comunicazione comunicazione costruttiva circolare dove all'interno di questa comunicazione queste tre C deve esserci innanzitutto il confronto e se noi non abbiamo l'osservazione e l'ascolto attivo diviene difficile il confronto perché la prima cosa che facciamo è ok io la penso così tu non sei nessuno e devi fare quello che dico io quell'altro ti dirà ok no ma così no ma colì ma colì tu non lo stai proprio ad ascoltare se non c'è un ascolto anche empatico di questo un ascolto attivo diviene difficile il confronto poi c'è un'altra caratteristica in questa in queste tre C è la responsabilità cioè io ho una responsabilità che è quella di direttore responsabile tecnico direttore tecnico di mister che comunque l'allenatore è il fulcro è la figura di riferimento di tutta la squadra quindi se c'è se c'è il confronto c'è c'è la comunicazione c'è il rispetto il miss c'è l'esempio da parte della dell'allenatore quindi qui andriamo anche in vari concetti della leadership se l'allenatore non dà l'esempio come possiamo pretendere che il nostro secondo segue dei valori condivisi degli obiettivi condivisi se io sto continuamente a delegare tutto aspettando che sbagli per rimproverarlo e dirgli che non capisce nulla poi non possiamo pretendere che il l'allenatore in secondo tutto lo staff ci segua con tutto questo interesse e questo coinvolgimento e poi dargli anche quella fiducia nella nella gestione dei compiti nella gestione dell'allenamento alcune volte metterlo alla prova chiedergli anche qualcosa di quello che ha osservato lui perché non significa che noi siamo i capi e che riusciamo a vedere e ad ascoltare e a capire tutto alcune volte l'allenatore in seconda ci permette di vedere quella cosa quella situazione che noi non riusciamo a vedere e quindi lo stiamo coinvolgendo quindi ritorno per me quando parlo anche con i responsabili che mi dicono i tecnici non mi seguono io dico una cosa e loro fanno un altro cioè se noi non abbiamo una relazione non li conosciamo non abbiamo un confronto costante e quando c'è il confronto noi vogliamo predominare in ogni situazione poi non possiamo pretendere che che tutti ci seguano no quindi le tre c credo che sia anche un altro concetto da altre un'altra parola chiave che può rimanere impresso soprattutto quando ci si ritrova in una situazione del genere e questo può essere anche al contrario cioè noi siamo disposti a insegnare siamo disposti a coinvolgere siamo disposti a dare fiducia ma poi dall'altra parte quell'altro ci sta prendendo in giro qui qualcosa non torna non è solo la colpa dell'allenatore quindi comunicazione costruttiva circolare le tre c comunicazione costruttiva circolare questo ci permette di evolverci ci permette di creare uno staff coeso ci permette di raggiungere obiettivi contestualizzando è sempre perché non è facendo questo vinciamo per forza contestualizziamo però ci aiuta sicuramente spero di aver risposto Franco sì sì grazie no no io prima ho il microfono spento ma ho ascoltato ascoltato tutto con grande con grande interesse insomma poi a me gli aspetti psicologici mi intrigano molto per cui ecco bene bene così se avete bisogno io sono sempre ne ho sempre tante osservazioni ci piace questo questo confronto psicologo allenatore di alto livello che insomma facciamo teoria pratica e vedo che è molto molto interessante vai Silvano vai sì mister Pranti comunque le voglio di nuovo fare i complimenti perché sto ascoltando delle cose da tecnico realmente voluto le dico la sincera verità anche sul significato dell'errore che nel calcio sto facendo una battaglia in mane a volte per far arrivare questo questo significato questo concetto quindi mi scusi della dell'interruzione no no come no certo 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 era quando hai parlato di pep talk cioè del del discorso pregara ovviamente quel film ogni maledetta domenica no che ha distrutto da un lato va bene ci ha incuriosito interessato dall'altra ci rompe un po' le scatole diciamo così no vero perché se uno non fa quelle cose sembra che non sia bravo ora io forse il fatto che noi siamo allenatori di pallavolo e la pallavolo rispetto ad altri sport probabilmente il calcio certamente il rugby certamente il football americano eccetera è uno sport estremamente più tecnico è più complicato è più difficile non difficile perché ad alto livello sono difficili tutti no gli sport fare risultati è difficile sempre ma noi dobbiamo tenere un pallone in volo non a caso i bambini giocano volentieri a calcio perché devono solo accompagnare un pallone che rotola ed è molto più semplice inizialmente che tenere un pallone in volo difatti a 5 anni si può giocare divertirsi giocando a calcio ma a 5 anni nemmeno a 10 non ci si diverte giocando a pallavolo perché la palla che tende a cadere cade e quindi per noi è molto più complicato per cui noi dobbiamo gestire uno sport estremamente più difficile e più complesso per cui la capacità tecnica supera di molto gli aspetti emozionali ed emotivi non che non esistano ovviamente ma la gestione tecnica della gara e dei vari momenti e dei vari aspetti del gioco ha un significato enorme in relazione agli aspetti emotivi e per questo che io sono spesso in disaccordo con dirigenti o comunque persone esterne al gioco che mi sottolineano ci sottolineano gli aspetti emotivi come aspetti importanti mentre gli aspetti emotivi possono esserci in alcuni momenti ci sono sicuramente ma c'è un dominio totale della gestione tecnica della gara quindi per noi il discorso pre-gara secondo me deve essere quasi sempre e quasi esclusivamente dedicato a ricordare pochi punti tecnici importanti cioè l'indirizzo del servizio i punti deboli avversari o comunque dove il servizio va indirizzato di più alcuni aspetti del muro sugli attacchi avversari eccetera ma pochi concetti che devono dominare il nostro pre-gara e anche il nostro durante la gara perché in fondo durante la gara la maggior parte degli interventi che dobbiamo fare sono consigli tecnici dopodiché esistono dei momenti emotivamente coinvolgenti io di fatti ho alcuni momenti della partita in cui vedo che la squadra va male e io non ho niente da dire di più che ripetere cose che ho detto tante volte e allora magari la metto qualche volta su un aspetto emotivo cioè chiedo time out e non parlo alla squadra cercando di suscitare sorpresa da parte dei giocatori che vedono che io chiedo time out e mi vado a sedere in panchina e loro devono stare fermi solo col fisioterapista a bere un bicchiere o comunque quello che è però non ricevono da me quell'aiuto perché voglio che loro si arrabbino si arrabbino con me perché dare a loro in qualche momento un nemico può essere utilizzato per scuotersi è come la persona che va per la strada e trova uno che gli dà uno schiaffo senza motivo ed è l'unico modo per far smettere quella persona di pensare a quanto è cattivo quanto è brutto quanto è debole quanto è scarso perché in quel momento c'è un nemico che mi ha dato uno schiaffo e io non so perché quindi lui è un cretino uno stronzo allora io ho un nemico quindi smetto di pensare a quanto io sono tapire o quanto io sono debole quanto io sono scarso che sono i veri pensieri negativi cioè scarsa fiducia in noi stessi diamogli un nemico quindi io io mi offro ogni tanto alla squadra come nemico come avversario da dover battere cioè da dovergli dimostrare che si sta sbagliando quindi ci sono alcuni momenti emotivamente particolari ma la maggior parte di tutto è tecnica è come giocare come aiutarli a giocare e la cosa più difficile per me allenatore è non esplodere quando loro sbagliano quando fanno errori banali durante la partita perché perdiamo molto tempo a a spiegare che loro devono dimenticare immediatamente l'errore o l'azione negativa conclusa perché devono pensare a quella subito dopo che deve essere positiva quindi non devono portarsi scorie dietro da situazioni negative quindi se noi invece passiamo il tempo a dire no quello non lo dovevi fare quell'altro ma no ma cosa fai ma eccetera tutte quelle robe che sono passate noi sbagliamo quindi dobbiamo mantenere la calma e la positività nella faccia nel nostro comportamento per incutere per 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 instillare in loro la fiducia che l'approssimazione andrà bene perché noi abbiamo una serie di azioni che si che iniziano e finiscono nel giro di pochi secondi quindi ogni volta è un capitolo nuovo che si apre si chiude si apre si chiude si apre si chiude si apre neutro e si chiude o positivo o col massimo della positività perché abbiamo fatto un punto o col massimo della negatività perché abbiamo perso un punto quindi noi tutto niente in brevissimo brevissimi istanti quindi in questo noi noi abbiamo una serie di comportamenti che devono aiutare la squadra ma l'aiuto migliore ripeto secondo me non è mai quello emotivo cioè fare discorsi che coinvolgono che strappano lacrime oppure applausi no ma ma quello di indicare la strada e basta ok posso dico due cose nel senso un po' ha parlato e ha utilizzato un po' i concetti che sono emersi no della coerenza tra io o allenatore che cerco di infondere una sorta di fiducia cerco di dare quella quei valori cerco di dare quell'obiettivo di non farsi travolgere dalle emozioni e quindi portarli essere bravi di essere appunto coerenti durante la partita quindi mi ritrovi appieno su questo aspetto dall'altro sul fatto del pep talk il discorso incoraggiamento va benissimo cioè nel senso le indicazioni i tre parametri direzione esprimere empatia e creare senso come dicevo alla fine quando parlavo del pep talk è proprio il mix giusto di questi cioè se in quel momento nello sport della pallavolo che io non sono espertissimo ad alti livelli soprattutto so le regole so come si gioca ma non sono espertissimo lei che lo è appunto utilizza più l'aspetto direzione perché è più utile e funzionale quello va benissimo poi quando ha detto che io ho chiesto time out io allenatore ho chiesto time out e non ho detto nulla per dargli quella spinta cioè in quella situazione abbiamo creato senso cioè gli abbiamo dato un significato emotivo importantissimo dove ragazzi vi dovete svegliare in poche parole no quella rabbia per affrontare il set il turno successivo ma non so per con quella rabbia giusta quindi in quel momento serviva dare l'emozione quindi la bravura ritorno a dire la bravura contestualizzando tutti gli episodi tutte le situazioni è proprio quella di riuscire a utilizzare uno strumento rispetto a un altro un modo rispetto a un altro ma essere consapevoli di quello che sto facendo è la marcia in più perché alcune volte non sappiamo neanche il nome cioè facciamo una cosa senza sapere senza il perché c'è alcune volte qua forse ritorno chiudo sono brevissimo su questo quando parliamo di esempio si sanno allenamenti soprattutto nei ragazzi sulle funzioni esecutive sanno allenamenti che noi parliamo esclusivamente di funzioni di si fanno sempre allenamenti sulle funzioni esecutive però la maggior parte degli allenatori che non conosce non è consapevole di quello che sta allenando cognitivamente non dà quella marcia in più se io sono consapevole che in quell'esercizio in quel gioco sto allenando anche alcuni tratti cognitivi perché si evidenziano determinati aspetti possono essere ancora più funzionali per i ragazzi quindi ritornando al concetto suo lei è consapevole di quello che sta facendo è consapevole delle delle situazioni che mette in atto utilizzato ok direzione pre allenamento cioè pre gara concetto direzione per poi durante la gara perché comunque ci sono degli intervalli si può fare il time out ha utilizzato il creare senso cioè io ho utilizzato in momenti che pre gara e post gara e non c'è ad esempio il tra primo e secondo tempo però cadono gli stessi concetti a voi il time out cadono gli stessi concetti è utile in quel momento dare l'emotività è utile dare la direzione è utile creare senso qual è più utile in questi casi come li mixo è qui che facciamo realmente la differenza grazie ancora dell'esperienza Andrea posso sto crescendo tantissimo su questa esperienza posso rubarti due minuti però hai accennato le funzioni esecutive che sono voi nel calcio ne parlate e ne utilizzate molto noi nella pallavolo lo stiamo almeno io personalmente lo stiamo cominciando a sentire ci specifici ci dici qualcosa in più il significato cioè che cosa cosa intendiamo per l'allenamento delle funzioni esecutive allora quando parliamo di funzioni esecutive parliamo a tutte quelle funzioni giovani quelle funzioni che fanno riferimento alla parte prefrontale del cervello e quindi parliamo di inibizione parliamo di flessibilità cognitiva parliamo di memoria di lavoro parliamo di attenzione parliamo di allerta cioè tutte queste funzioni permettono di infatti sta diventando in poca si sta parlando tantissimo delle funzioni esecutive soprattutto nel calcio perché quei pochi studi quelle poche ricerche che sono state fatte nell'arco degli ultimi 4-5 anni se non sbaglio hanno evidenziato proprio una caratteristica e una differenza tra gli atleti professionisti e gli atleti non professionisti proprio su la maggior parte proprio su queste caratteristiche su queste funzioni perché queste funzioni le funzioni esecutive permettono di organizzare e programmare il nostro cervello in poche parole quindi permettono di utilizzare un qualcosa rispetto ad un'altra nella maniera più veloce possibile la faccio proprio in breve per non stare qui a parlare quindi questo hanno evidenziato che c'è una sulla flessibilità cognitiva i professionisti stanno avanti anni luce ai direttanti sulla memoria di lavoro sull'attenzione cioè anche sulla stessa allerta perché allerta per esempio un gioco classico secondo me forse l'abbiamo fatto tutti il classico pronti partenza via cioè lì stiamo allenando l'allerta come funzione esecutiva predominante poi alleniamo comunque tutte le funzioni esecutive perché stiamo toccando tantissimi aspetti però stiamo allenando la funzione esecutiva predominante l'allerta cioè se io dico pronti partenza via e si corre classico se io dico pronti partenza via è diverso se io dico pronti via è diverso è lì che che facciamo la differenza se un allenatore pone un gioco sul pronti partenza via e dà sempre lo stesso intervallo di tempo pronti partenza via non sta allenando l'attenzione l'attivazione non sta allenando in quel caso l'attivazione dell'attivazione ma sta allenando sta facendo un esercizio se ha la consapevolezza di quello che sta facendo va a allenare anche tutto l'aspetto di attivazione va a allenare le funzioni esecutive per questo ritorno a dire se noi abbiamo la consapevolezza di quello che stiamo facendo e del perché lo stiamo facendo diventa un aspetto importantissimo che io dico sempre quando vado a vedere anche gli altri misteri nelle altre società a me non interessa tanto come sta conducendo l'allenamento o come sta facendo l'allenamento a me mi interessa il perché lo sta facendo perché può fare un allenamento il più brutto possibile di non allenare e mai così per dire ma noi non sappiamo il perché ha proposto quel tipo di allenamento in quel momento non sappiamo perché in quel momento secondo il mister aveva l'esigenza di allenare determinati aspetti e qui ritorniamo al confronto se c'è poi c'è confronto e vediamo una non competenza una non consapevolezza di quello che stava facendo è tutto un altro discorso ma se vediamo un perché significativo può esserci un confronto importante tra noi e l'altro mister che noi la prima cosa che facciamo è guardiamo l'allenamento mamma mia è inguardabile io non allenerei mai così ma sappiamo perché sta facendo quel tipo di allenamento poi siamo andati quel giorno non sappiamo se altri giorni lavora in quel modo o in un altro modo e ritorniamo al concetto di assenza di giudizio quindi vedete che un po' i concetti ritornano no? e se noi siamo consapevoli di questi concetti cresciamo miglioriamo ci evolviamo grazie Andrea insomma siamo andati abbastanza lunghi ma è stata una serata molto molto piacevole ci hai esposto delle idee dei concetti importanti che sicuramente è necessario approfondire per noi Silvano ci ha dato la sua parte di conoscenza insomma Silvano è un allenatore tra i top al mondo infatti voglio ringraziarlo nuovamente perché mi ha dato delle esperienze visive anche delle immagini mentali della sua esperienza che è spettacolare grazie credo che insomma il termine più ricorrente soprattutto in quest'ultima parte è quello della consapevolezza cioè quello che si fa è importante si può essere direttivi meno direttivi si può essere in tanti modi l'idea delle mazze del golf bisogna sapere quale stiamo utilizzando un'ultima battuta con Maurizio e ci salutiamo Maurizio sì eccomi eccomi ma volevo dire questa cosa qui sentivo chiaramente sempre con molto piacere l'intervento di Silvano Prandi che ha portato il discorso del Pep Talk su diciamo l'esigenza nostra di allenatori di pallavolo però poi dopo Andrea secondo me ha risposto bene perché poi alla fine quello che diceva Silvano è proprio dare la direzione che è una parte importante del Pep Talk cioè quando noi nel pre-partita così diamo le ultime indicazioni quindi come diceva Silvano dove è meglio battere che situazioni tenere a muro su ogni giocatore eccetera non è non è altro che la direzione però certe volte effettivamente anche con minimi atteggiamenti o con minimi momenti entrare in empatia con lo stato dei giocatori penso che sia molto importante anche farglielo sentire nei vari momenti della stagione quando magari c'è più eforia bisogna un attimo contenere le cose oppure quando c'è invece un momento difficile e quindi è importante anche che l'allenatore sappia fare sentire questa sua empatia nei confronti della squadra e poi ricordare sempre lo scopo che certe volte un po' si perde il significato di vincere quella partita sono cose che effettivamente noi allenatori magari in momenti diversi in modi diversi facciamo volevo chiudere con un intanto ringraziare anche Franco perché questo incontro di questa sera è nato anche da una ricerca che stiamo facendo una piccola ricerca che stiamo facendo con Franco che mi ha proposto di chiedere agli atleti e stiamo facendo questa domanda cosa si aspettano dai loro allenatori quindi stiamo intervistando un po' di ragazze magari poi vi convolgeremo anche un po' a tutti ragazzi giocatori atleti di alto livello di basso livello per vedere cosa i giocatori si aspettano dagli allenatori e una delle cose che abbiamo visto almeno fino adesso molto molto ricorrenti è proprio quello della comunicazione cioè gli allenatori i giocatori si aspettano che gli allenatori parlano con i giocatori li coinvolgano gli spiegano le cose gli spiegano perché gioca perché non gioca perché gioca di più perché quel ruolo perché no quindi proprio da questo è nato questo incontro di questa sera di cui di nuovo ringrazio ringrazio tutti Andrea e ci portiamo a casa diverse idee diversi concetti e molte cose da approfondire per cui insomma è stata una bellissima serata grazie a tutti grazie e buonanotte buonanotte grazie mille buonanotte grazie a tutti grazie buonanotte grazie a tutti grazie a tutti